ciao ciao dove siamo? a Empoli come hai detto te. Empoli? Empoli oggi ragazzi. Che stare? il miglior sushi all you can eat all you can eat cioè non è dei migliori si è fermato dal vento prima si muoviva. Esatto. Guarda sul fiume anche che stai camminando guarda a dopo allora signorina dove siamo? Il miglior sushi ragazzi? Siamo al Fishnood. Ok spiega quando usciamo facciamo vedere anche la foto del locale facciamo vedere tutto. Dentro è bellissimo. Questo è il minucere locale molto bello ragazzi è stra grande ma aiutami i gritti che è grosso. Su ogni tavolo c'è questo tablet da dove puoi ordinare le cose vedi l'antipasto cucina e lì ci sono i ragioni. L'ho visto hai visto? Sì eh. Guarda quanto sushi abbiamo. Guarda quante tipi. Ragazzi l'imbalizzatore ha scelto però. Bellissimo. Molto. Guarda intanto noi ordiniamo tutto e poi faremo dire mano a mano tutto quanto. Sono arrivati i ravioli ragazzi. I ravioli. Margheria assaggio i ravioli. Dai amo. Sentiamo. E' paura che bruci eh. Dallatore sembra buonissimo tipo. E' buono. Brucia eh. E' buono. Ce lo racconti cos'è eh? Prima che ti ostioni e muori. E' maanzo. Maanzo? E' bello morbido eh. Si eh. E' buonissimo già un altro eh. Senti. E' buono però. Non riesco. Vai dici. Se dici. Dici quando non riesco. Bastata. Da con le mani. Bravo. Buono vero? Buono. Nulla che mi dico con le fish food. Cos'è andato nella prima volta. No. Non c'entra assolutamente niente. Il livello è molto più alto. Però è buono. Si. Vero? Spettriato bene. Mh. Sette e cavolo ma. Eh si si. Buono. Sono arrivati i primi. Spice. Spice. Salmon mi pare. Salmon. Però non so cosa c'è dentro ora. E questo è sempre salmone avocado con solitamente una scuma di limone. Vero? Vai senti. Non vuoi cucinare. No. Più che altro non voglio riprendere la gente dietro. Questo secondo me deve essere buono. Questo qui con il limone. Eh deve essere buono. Senti l'altro. Sono messi anche proprio bene. Sì. Non sono troppo grossi. E' ma che sono attaccati. Non c'è troppo riso. Ce la fai? Buono. Eh. Buono. Buono. Molto buono. Wow. Finchia. Così ha? Che cosa è questo qua? Io so che sei un bambino felicissimo. Ma non so cosa ci sa. ora si guarda fammela a me il video devi assaggiare uno di tutti questo è quello con il gambero fritto e dentro sopra ci dovrebbe essere il branzino e il tartufo esatto pagli la scoccata senti un po' com'è grazie tieni in mezzo la luce com'è questo? un po' di luce si lo sai a me il fritto non è il fritto non ti piace? no ti mangio uno di tutti amo voglio il tuo parere voglio questo che non mi ricordo che cosa sia questo è gamberi avocado no 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 si fritto dentro frittatezia è quello che non volevi te quello che mangerò io poi perché tanto è la teriaki c'è un carpaccio no c'è il gambero sopra la cipollina più buono? sì e di sopra è la più fanca eh ti ho detto io è buono quello non lo riprende a te poi vieni vieni col donatelio pevroncino adoro sentiamo se è piccante questo esce un po' dal paletto grazie pezzicato ma no vado no però se la formale lo senti non ti dà troppa noia perché sotto c'è l'avocado ok quindi non lo smorza un po' se non c'è l'avocado muore l'ultimo questo è un biscello asparago grani faccio vedere asparago salsa tartufa e poi dovrebbe essere il salmone cotto sì il salmone cotto flambe questo buono 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 c'è i vigni da mangiare anche c'è i vigni da mangiare anche come mangio questo quale ti pare vai che è quello classico salmone filadelfia e uova e salmone sopra non ti entusiasma te il filadelfia ma vabbè la quale del salmone è buona sì tonno tonno che qui il tonno a me mi sembra veramente ottimo buonissimo 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 fuma buonissimo travato dai guarda se quelle scoffano un po' io ragazzi e come mi viene carpaccio salmone un pasta fita poi e un uovo un uovo tacos di trombo si, questi sono carinissimi molto si, che ho carino in paio sentiamo come vanno dici cosa ne pensi un boccon finger food esatto pensi al condo del territorio buono il pomodoro si sta molto male si, vado io io mangio quest'altro oh com'era? è buono quindi vado a mangiare quello ma io non so come fa a mangiare quello di ora così, ah, guarda aspetta, mangiare questo prendimi queste vai ciao, come lo sfidi non ti calma? c'è il melone chi c'è? fizzia? oh c'è anche il limone è molto non ti piace? ma sono fizzia io so con l'altro prima quindi? mi giri ragazzi portateli subito che mi giri no coglioni a lei sono riportate insomma io sento questo che è più semplice semplice un po' di soia no? easy semplice schiocca c'è wasabi sotto c'è c'è qualcosa sopra sopra non c'è nulla è buono sotto hanno condito il tutto con qualcosa no è buono non c'è nulla hanno condito il tutto con qualcosa questo è sunno e tartufo e tartufo schiocca un po' buono ma ce la fai a masticare e no c'è l'ultimo pezzettino sentiamo questo qua questi sono bellissimi c'è tutto noccioli pistacchi questo è pesilei e salmone salmone frambè caldo buono vuoto? riesci a vedere? 8 e mezzo quanto? 8 e mezzo alto è? allora sta a me tu ritori a bobre poi dai ti parto da quello più confuso sì ma non ti emozionare molto troppo dolce la boviglia eccolo subito andata bocciato bocciato il primo bocciato il primo poi vai tonno e flambè vai questo è buono l'altro mi sa che era meglio se mangiavi era meglio se non si mette in quel modo però va bene sì spero io pucio la soglia si ma non si mette così come no si mangia il pesce basta si si puccia il pesce cosa ci hanno messo sopra? no adesso avevo un sapore strano i homebook esatto e per concludere in bellezza noci e cheesecake allo yuzu l'agrume dovrebbe essere l'agrume l'agrume va bene ma la sua testa fanna no? eh ciao mi ce l'importa mette a me non ci piace nooo qui con gelato se no no si gelato su gelato? gelato ah gelato? buono 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 assaggiamo un pochettino di questi messaggi anche buono 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 si eh ma ci scufoniamo tutti poi dopo il conte poi basta ciao grazie grazie mi stai guardando a me come son vestito riso umano c'ho il mio fiorito ciò è un nuovo video ragazzi oggi siamo molto eleganti io mi sono levato la giacola perché ci fa un caldo che si crepa lei e la un top assurdo arancio c'è un matrimonio un vestito di quelli top ragazzi arancio siamo a matrimonio e faremo vedere lo svolgimento del matrimonio quello che ci facevano a matrimonio dell'anno e niccolò sì ovviamente siamo una finchietta carmignano a prato ora andiamo a pisa a mangiare e quindi vi faremo tutto lo svolgimento location tutto quanto non vi preoccupate e ragazzi vi svelo subito una piccola cosa nei prossimi mesi ci sarà un aggiornamento da paura sul nostro futuro quindi rimanete qui perché potrete scoprire tante cose quindi ragazzi so Grazie a tutti. Sto riprendendo, Suelle. Saluta tutti. Saluta, Vincenzo. Ciao. Ora si va, eh? No, ma di là si passa. E di qua, là. Ah, non si passa di qua. E non si passa. Bello, eh? Ciao guarda che tramonto che c'è sei stonto cos'è sti versi anzi portiamo della piscina una gioia se era più caldo un magnettino mi stava però così tutte le luce un bel percorso per fare una giurata dai stuvi lento che voglio Grazie a tutti.